Appuntamento alle 9.30 di domenica prossima alla Pensilina Liberty in Cittadecchia a Taranto per il primo trofeo di voga femminile Città di Taranto presentato stamattina a Palazzo Pantaleo. L'evento sportivo è stato organizzato dalla polisportiva Vogatori Taras. Si tratta di una gara di voga in piedi su gozzi a due remi per la prima volta nel capologo ionico riservata a soli equipaggi femminili. Prima gara spero di una lunga tradizione, di creare questa lunga tradizione completamente al femminile. nella voga. Siamo tra i primi in Italia, la voga sarà a due, equipaggio a due e ci saranno sia i professionisti che i nuovi atleti che si misureranno in due gare distinte. Abbiamo coinvolto tutte le marinerie tarantine e non solo, anche quelle regionali. Alcune verranno semplicemente come osservatori per vedere questa nuova disciplina, altre parteciperanno attivamente alla gara e quindi noi ci auguriamo di trasformare questo evento agonistico in una festa per tutti quanti. Dopo 30 anni di voga destinata unicamente agli uomini, finalmente realizziamo quello che era stato il nostro sogno da diversi anni. Un evento che avvii una nuova tradizione nella voga in piedi a due remi in avanti con i nostri gozzi tarantini unici perché acquistati per la nostra flotta a due e a quattro remi gozzi che al momento sono in possesso soltanto della nostra marineria. Parteciperanno sei equipaggi della polisportiva Taras più quelli provenienti dalle altre marinerie. Un'occasione per tifare, per lo sport e per avvicinarsi a questo genere di attività sportiva soprattutto per le donne.